Il borgo antico resiste, quindi esiste, e risponde ai fumi dell'Ilva e ai problemi della città riempendo di fiori lipogei curati dall'associazione Nobilissima Taranto. L'iniziativa è di Made in Taranto che, nel nome del cambiamento possibile, ha donato cento piante fiorite agli spazi sotterranei della città vecchia. Avevano chiesto anche sostegno al comune, ma non hanno mai ricevuto risposta. Un atto d'amore per il borgo, così è stato definito dagli ideatori, in memoria di Vincenzo Ciliberti, associato di Made in Taranto e morto poco tempo fa. E solo l'inizio annunciano di un percorso che restituirà al borgo quello che merita, sperando che la popolazione possa apprezzare. Perché poi, quando Peppino Impastato diceva che alla gente bisogna insegnare la bellezza, aveva ragione. In cosa consiste l'iniziativa? Consiste nel dotare gli ipogei di fiori, e chiaramente anche serviva qualcuno che li curasse. La morte di un nostro carissimo associato, Vincenzo Ciliberti, ha fatto letteralmente anticipare i tempi, perché era una cosa che fortemente lui aveva desiderato fare e quindi abbiamo colto l'occasione per accelerare, anche rispetto al comune, che chiaramente ancora, del quale ancora aspettiamo una risposta. Per cui abbiamo iniziato a donare i fiori all'associazione nobilissima Taranto, che se ne è presa assolutamente carico, quindi provvederà alla manutenzione, eccetera. Successivamente doneremo anche agli altri ipogei. Vincenzo era molto legato alla città, alla città vecchia in particolar modo, essendo dei tamburi e soprattutto alla possibilità che la città potesse riscattarsi, partendo dalle qualità indubbie di cui fa parte appunto Taranto, emergere e sollevarsi. Siamo fondamentalmente convinti che il riscatto di questa città possa essere proprio in funzione del rilancio turistico-culturale. Quindi tutto ciò che di bello abbiamo va messo in evidenza e va, se mai, valorizzato. Il verde fa parte dell'arredo urbano e quindi chiaramente questa iniziativa non può che essere assolutamente positiva.